Allora, senti, hai un set solista e puoi fare parte anche del set di Mace, cioè è un doppio debut in pratica, non male. Come ti organizzi, insomma? Ah, mi sono già organizzato, per fortuna. Bene, nel senso, abbiamo fatto soundcheck questa mattina per il mio set, era stupendo, c'era la piazza vuota, siamo stati i primi ad accendere il sound system, è stato veramente speciale. Poi ho fatto una cosa un po' particolare, che non ti svelo. E poi ho rifatto lo soundcheck con Mace, effettivamente, dato che il mio set dura solo 7 minuti, almeno un po' più di tempo su questo palco. Ok. E senti, un evento del genere, che è abbastanza unico in Italia per quella via di mezzo tra un festival e una maratona, c'è una cosa che ti piace particolarmente di questo evento, di questa situazione che è per la prima volta quest'anno? Beh, diciamo il mood generale, di far parte di una cosa molto grossa e quindi di aver l'occasione di portare qualcosa di diverso in un contesto di questo tipo, è una bella occasione. Io poi ogni volta che ho l'occasione per fare qualcosa di nuovo, mi ci furto. Lo seguivi gli altri anni? Ma l'ho seguito da piccolo qualche volta, poi io sono andato via di casa a 18 anni e poi non ho più avuto la televisione, quindi non l'ho mai più seguito. Quindi, e come l'hai trovato cambiato? Non lo so, adesso vediamo quel concerto, vediamo anche quanta gente ci sarà, sono curioso, molto curioso. Senti, tu hai fatto una cosa che adesso si usa pochissimo, che si usava tanto tempo fa, registrai dai tuoi live, registrai dal vivo, cioè tu dai molta importanza al momento del live. Beh, diciamo che è il mio lavoro vero, nel senso che essendo musicista poi tutto il resto è un po' in funzione di quando poi sei di fronte alle persone e condividi qualcosa, quindi sicuramente per me è la cosa più importante di tutte. E hai un tour in partenza? Sì, ho un tour che parte il 27 maggio, beh questa è un po' una data diciamo, una sorta di falsa partenza e stanno preparando una cosa veramente gigante e molto molto speciale. Sì, anche di darsela l'anno scorso. Le sorpresi alle quali hai fatto cena prima faranno parte del tour, cioè sarà una pima di sorprese. Ma sì, ogni cosa che faccio è piena di sorprese, quindi sempre così, non mi ripeto mai. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.